Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete ho rappresentato una macchina termica e qui a destra invece vediamo un frigorifero. Il frigorifero è una macchina che compie un lavoro negativo, cioè assorbe energia dall'esterno, ovvero la presa di corrente elettrica fornisce energia al frigorifero. Grazie a questo lavoro compiuto sul sistema, il frigorifero assorbe calore dalla sorgente a temperatura fredda, quindi la sorgente fredda che qui è indicata con temperatura del frigo, cioè l'interno del frigo, questo calore viene assorbito e viene ceduto a una sorgente calda che non è nient'altro che l'ambiente esterno. Si realizza anche in questo caso una trasformazione ciclica che a differenza della macchina termica viene percorsa in senso anti-orario. Attenzione, per la convenzione dei segni questo lavoro è negativo. Per questioni pratiche prendiamo tutte le grandezze, calore assorbito, calore ceduto e lavoro in valore assoluto. Questo normalmente si fa per le macchine termiche perché è più comodo ragionare in termini di valore assoluto. Quindi posso scrivere questa relazione, ricordo quindi che sto intendendo questo perché in realtà il lavoro è negativo e il calore ceduto è negativo. Però in alcuni testi trovate direttamente scritto Q ceduto, comunque a seconda della convenzione Q1 e Q2 vengono chiamati Q assorbito e Q ceduto, potete trovarlo scritto in questo modo, però deve essere assolutamente sottolineato il fatto che le grandezze sono prese in valore assoluto, perché abbiamo visto nel video dedicato al primo principio della termodinamica, se te lo sei perso lo trovi quassù, che le convenzioni sui segni sono molto importanti, quindi il calore e il lavoro sono positivi o negativi a seconda delle condizioni che stiamo considerando. Qui, ripeto ancora una volta, consideriamo tutte le grandezze in valore assoluto. Quindi la cosa utile del frigo è che mantiene una temperatura bassa al suo interno. La cosa negativa che ha anche un impatto sull'ambiente è che le macchine frigorifere riscaldano ulteriormente ciò che è già a temperatura più alta rispetto all'interno del frigo, cosa che fanno anche i condizionatori. I condizionatori funzionano come i frigoriferi, prelevano calore da una sorgente a temperatura più bassa, tipicamente l'interno della casa, e riversano questo calore verso una sorgente più calda, l'ambiente esterno. Quindi se noi abbiamo una casa che è a 22 gradi e fuori ce ne sono 35, tutti i condizionatori messi insieme contribuiranno ad aumentare la temperatura esterna dell'ambiente. Quindi se noi qui sostituiamo al posto di frigo temperatura interna e qui lasciamo temperatura ambiente o temperatura esterna, stiamo parlando non più di un frigo ma di un condizionatore. Ma dal punto di vista delle grandezze del funzionamento siamo in condizioni analoghe. Per quanto riguarda il rendimento, per le macchine frigorifere e per i condizionatori non si utilizza il rendimento eta che abbiamo definito per le macchine termiche, ma si utilizza il coefficiente di prestazione. Il coefficiente di prestazione è un indice dell'efficienza del frigorifero ed è definito in questo modo come il rapporto tra il calore assorbito e il lavoro, sempre in valore assoluto. I valori tipici del coefficiente di prestazione di un frigorifero variano tra 2 e 6. È ovviamente un numero puro, è un coefficiente adimensionale perché è un rapporto tra due grandezze con la stessa unità di misura. Quindi ricordate che qui dobbiamo mettere, per essere più precisi, il simbolo di valore assoluto. La pompa di calore come funziona? Un po' come il condizionatore, però il condizionatore cosa fa? Preleva calore dalla sorgente fredda che è l'aria interna alla casa e la butta all'esterno, ovvero cede calore all'esterno. Invece la pompa di calore preleva calore dalla sorgente fredda ovviamente, ma questa volta è l'esterno la sorgente fredda e cede calore verso la sorgente calda che questa volta è l'aria all'interno della casa. Però il funzionamento è simile, preleva questo calore dalla sorgente fredda, lo cede alla sorgente calda assorbendo energia elettrica, quindi lavoro compiuto sul sistema. Per le pompe di calore è definito il coefficiente di guadagno come il rapporto tra la quantità di calore ceduta e il lavoro. Naturalmente anche questi sono considerati in valore assoluto e i valori tipici vanno da 3 a 4 ma anche 5 e 6, quindi un indice dell'efficienza della pompa di calore è proprio questo coefficiente di guadagno. Parliamo di trasformazioni irreversibili e irreversibili ricordando che già nel video dedicato alle trasformazioni quasi statiche abbiamo affrontato questo argomento parlando di trasformazioni reali e ideali. In effetti le trasformazioni quasi statiche sono tali per cui manteniamo il sistema sempre in una certa condizione di equilibrio perché la trasformazione avviene così lentamente diciamo da non perturbare l'equilibrio. Vediamo allora che cos'è una trasformazione reversibile. Una trasformazione reversibile se è possibile sia per il sistema sia per l'ambiente circostante ritornare esattamente nello stesso stato in cui si trovavano prima che la trasformazione iniziasse. E questo ci sottolinea il fatto di come sia praticamente impossibile realizzare una trasformazione reversibile reale perché dobbiamo fare attenzione a questa frase presente qui nella definizione sia per il sistema sia per l'ambiente ritornare nello stesso stato. Io posso avere cioè un gas in una certa condizione di pressione volume qui indicato con stato A posso portarlo nello stato B. Dopodiché trovandomi nello stato B posso rimodificare le condizioni in maniera tale da riportarmi nello stato A che era la condizione iniziale. Ma che cosa è successo? Ad esempio se il gas si trova in un cilindro e c'è un pistone che lo comprime ci sarà attrito tra il pistone e il cilindro. Non possiamo in questo caso effettuare una trasformazione reversibile anche se poi noi ritorniamo nella situazione nella posizione originale del pistone perché l'attrito generato dallo sfregamento diciamo del pistone sul cilindro crea calore e il calore scalda il cilindro e questo calore si trasferisce nell'aria nell'ambiente esterno. Abbiamo modificato l'ambiente non possiamo ripristinare le condizioni iniziali dell'ambiente. Questa è una trasformazione irreversibile. Non è solo l'attrito causa di trasformazioni irreversibili. Possiamo ad esempio far avvenire una trasformazione in modo così veloce da creare delle turbulenze e anche in questo caso avremo una trasformazione irreversibile. Tutti i processi reali sono irreversibili. Tutte le trasformazioni che abbiamo visto nei video dedicati al primo principio sono tutte trasformazioni considerate reversibili ma sono situazioni ideali che nella realtà non possiamo ottenere. Per rendere meglio l'idea di trasformazione irreversibile pensate di realizzare un impasto per cuocere una pizza. Bene una volta che avrete tirato fuori dal forno la vostra bella pizza provate a ritornare nelle condizioni iniziali in cui avevate un impasto formato da farina acqua e lievito e sale. Non credo che sia un esperimento così facile da realizzare. Termina qui questo video spero che vi sia stato utile se così non dimenticate di mettere un bel like. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!